Siamo collegati con il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ministro, buonasera. I contagi non accennano a diminuire. Siamo nella quarta ondata? In tutti i paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, abbiamo dei contagi in crescita in modo significativo. Questo è causato dalla variante Delta, che è una variante molto insidiosa, molto veloce nel diffondersi. Proprio per questo oggi più che mai dobbiamo rispettare i comportamenti corretti che abbiamo imparato in questi mesi così difficili, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento e soprattutto insistere col vaccino, che è l'arma più importante che abbiamo per difendere noi stessi e per proteggere tutti gli altri. Insistere sul vaccino, Ministro, per la campagna di vaccinazione si è parlato di effetto Green Pass. C'è stata un'accelerazione molto forte negli ultimi giorni di prenotazioni, dopo che il Governo ha annunciato l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. La campagna in Italia sta andando bene. Abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose, il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Io credo che gli italiani abbiano ben chiaro che il vaccino sia l'arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili. Ministro, il Green Pass, lo abbiamo visto, ha provocato anche molte proteste. Cosa risponde a chi dice che limita la libertà personale? Io credo che sia vero esattamente il contrario. I vaccini sono la nostra arma per riconquistare la libertà. Il Green Pass è uno strumento che ci consente di rendere più sicuri i luoghi della socializzazione, i posti dove incontreremo i nostri amici, le nostre famiglie. E quindi i Green Pass e i vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile e provare ad aprirne un'altra. E siamo più liberi se siamo vaccinati. E il mio appello a tutti gli italiani è di continuare a vaccinarsi, perché il vaccino è davvero l'arma più importante che abbiamo se vogliamo aprire una stagione diversa. Grazie, Ministro. Su questo suo appello io la saluto e le auguro buon lavoro. Il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi. Il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi. Grazie. Grazie.